Grazie a tutti. 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 Un miliardo e mezzo di investimenti, quindi come abbiamo ascoltato, vediamo nel dettaglio il masterplan appunto che si articola su 77 interventi per l'intero territorio abruzzese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è il masterplan per l'Abruzzo presentato dal presidente della regione Luciano D'Alfonso, dopo tanti contatti con il sottosegretario della presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti e con il capo dipartimento programmazione politica e economica Ferruccio Sepe. Scorrendo la lista degli interventi molti sono quelli che riguarderanno la viabilità, come il completamento della Teramo Mare, della Fondo Valle del Sangro, della Statale 17 L'Aquila Busi e la viabilità minore, ma non meno importante, per le nostre aree interne. E pocale sarà anche la velocizzazione della ferrovia Pescara-Roma, ma anche del tratto sul Mono all'Aquila. Sarà potenziato, secondo il masterplan, l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, mentre nulla è previsto per l'aeroporto dei parchi dell'Aquila. 60 milioni sono invece destinati a realizzare una rete di piste ciclabili, non solo lungo la costa, ma anche tra le aree interne e la costa. Si interverrà sui porti di Ortona, Roseto e anche in quello di Pescara, per risolvere qui l'annoso problema dell'insabbiamento. Sono previsti anche molti fondi per riparare e costruire nuovi depuratori, a beneficio anche del superamento dell'emergenza mare inquinato. Tanti saranno gli interventi di bonifica, utili a evitare finalmente le salate multeuropee e di messa in sicurezza idrologica di un territorio fragile e a rischio. Sarà completata anche la diga di Chiauci, in provincia di Chieti, ferma da 40 anni. Il masterplan prevede anche interventi sull'ex ospedale psichiatrico dell'Aquila a Colle Maggio, anche se non è ancora chiaro cosa verrà fatto con i 10 milioni stanziati, di cui un milione solo entro il 2017, sull'ex Stella Maris di Montesilvano, sull'ex manicomio di Teramo e sull'ex casalma bucciante di Chieti. Il termine per il completamento delle opere in stato avanzato di progettazione è quello del 2017, opere che hanno la priorità del 2020 invece per tutte le altre in elenco. E proteste fuori dall'auditorium questa mattina, come abbiamo visto in apertura all'arrivo del premier Renzi. Ascoltiamo nel servizio le interviste fatte appunto alle lavoratrici. Dai precari del sistema giudiziario abruzzese, ai lavoratori del call center Globe Network, fino ai dipendenti delle aziende Hitec, Intex e Tecnolabs. Un tempo fiore all'occhiello dell'ormai ex polo elettronico dell'Aquila. Un mix variegato di storie di donne e uomini diverse tra loro, che si sono dati appuntamento all'Aquila per protestare e chiedere certezze sul loro futuro al capo del governo Matteo Renzi. I manifestanti sono stati tenuti a distanza dalle forze dell'ordine. Gli scontri e disordini nello scorso mese di agosto, quando Renzi si seregò all'Aquila per la prima volta, non si sono verificati. Solo fischi e slogan, che seguono quelli dell'altra rotesta e glatante, andate in scena solo qualche giorno fa in occasione del passaggio del Giro d'Italia. Andremo da Matteo Renzi per chiedere che sostenga la nostra causa di continuità del lavoro all'Aquila. Quindi chiediamo a Renzi che dia, ancora una volta lo ribadisco, la possibilità ai 234 lavoratori di Globe Network di continuare a lavorare per HTLG. Di cercare di mantenere soprattutto l'economia italiana, perché con la nostra azione stiamo fermando tutte le acciaierie, quindi automaticamente l'economia si ferma. E non sono solo 80 persone che rischiano di perdere il posto, ma saranno più di 100.000, perché fermandosi stiamo collassando il mercato dell'acciaio italiano. Ha dichiarato la cassa integrazione, quindi un percorso verso la chiusura dello stabilimento aquilano. Stiamo facendo un percorso con la regione nel tentativo di riattivare e ricollocare i lavoratori in quelle che saranno le aziende che dovrebbero arrivare col 4%. Oggi siamo qui perché questo governo non può ignorare queste realtà, non può ignorare una generazione di quarantenni e cinquantenni con figli che hanno una professionalità, una storia e una competenza nel momento in cui si dice che le nuove tecnologie, la ricerca, dovrebbero essere le linee portanti che ci tireranno fuori da questa crisi. Sittin di protesta questa mattina a Giulianova a manifestare 26 assistenti a domicilio di anziani e diversamente abili che da tre mesi non percepiscono stipendio e chiedono l'intervento delle istituzioni. Francesca Romana Testi. 26 lavoratori senza stipendio da tre mesi, più di 100 pazienti assistiti a domicilio tra Giulianova, Mosciano e Bellante e la richiesta di intervento da parte di tutte le istituzioni coinvolte, regione compresa. Al centro dell'attenzione però resta la cooperativa Gora Toscana, reputata responsabile, diretta, della situazione che oggi ha portato ad un sitin di protesta sotto i palazzi dei tre comuni coinvolti. Noi abbiamo chiesto al prefetto di intervenire, abbiamo fatto due riunioni in prefettura dove praticamente non si è raggiunto un accordo. Stiamo protestando contro gli enti, contro i comuni, contro l'ambito sociale, contro la regione che praticamente deve dare diverse pensilità anche alla cooperativa. Però la cooperativa non può nascondersi dietro al fatto che gli enti non pagano finché loro non pagano gli stipendi perché hanno partecipato a un bando dove comunque loro sono obbligati a pagare gli stipendi a prescindere dagli enti che pagano le fatture. L'opera prestata dai lavoratori è di assistenza domiciliare ad anziani e diversamente abili. Contratti part time che arrivano a 12 ore settimanali, stipendi da 500 euro che secondo i sindacati non possono rappresentare un peso né per gli enti locali né per un governo nazionale. La cooperativa non paga perché gli enti non pagano, gli enti non pagano perché la regione non paga, la regione non paga perché lo Stato non dà i finanziamenti, poi alla fine però a pagare sono i lavoratori. Stiamo parlando di stipendi di 500-600 euro al mese. Se uno Stato non è in grado di garantire stipendi di 500 euro al mese, io credo che siamo messi molto male. E nel corso di una visita ispettiva effettuata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, sono state riscontrate criticità nel reparto di oncologia dell'ospedale di Pescara che rappresenta comunque una eccellenza. Ha presentata una interpellanza, vediamo. Consigliere Pettinari, c'è stata una visita ispettiva che lei ha fatto nei giorni scorsi all'ospedale di Pescara, ha riscontrato delle criticità e per questo ha presentato un'interpellanza, risposta orale al Presidente della Giunta. Sì, intanto parliamo del reparto di oncologia medica e del The Hospital di oncologia medica. Abbiamo scoperto che alla Als di Pescara manca un percorso delle cosiddette cure pagliative che significa che quando il malato oncologico entra nel reparto, gli vengono somministrate delle cure attive. Poi basta, più di quello non si può fare, quindi il malato deve rientrare nella propria casa e lì ci servirebbe un'equip che somministra delle cure pagliative, vale a dire un medico esperto in cure pagliative, uno psicologo, un sociologo e un assistente spirituale addirittura. Mancando questo, cosa accade? Che il malato deve rientrare, quando si sentirà nuovamente male, deve rientrare necessariamente in pronto soccorso e quindi il reparto e ingolfare il reparto. E un'altra cosa importante, abbiamo visto che i malati che si sottopongono a chemioterapia stanno in un'unica stanza, otto persone, quasi ammassati. Una situazione difficilissima, almeno in riferimento a quel reparto. Io adesso mi recherò in sopralluogo proprio in quel reparto perché la Commissione Sanità ha deciso di fare questo sopralluogo e quindi verificheremo di persona qual è la situazione. Purtroppo, credo, mi dispiace dirlo, ma non credo che sia solo esclusivamente quel reparto, ma anche altri reparti che avevano problematiche di questo genere e che sono già state denunciate in altre situazioni. E prosegue la crisi dell'amministrazione Brucchi a Teramo. In attesa di un nuovo esecutivo c'è chi pensa all'approvazione di un bilancio che fa discutere per i troppi tagli. Un'amministrazione comunale in crisi da mesi, un rimpasto già avvenuto e ancora nuove tensioni e disaccordi. A Teramo ancora manovre di assestamento e nomi non ufficiali che lasciano di fatto aperte tutte le possibilità. Fino a quando si è concentrati su cambiamenti di facciata che vengono richiesti, chi occuperà quale poltrona e quant'altro, noi a questo gioco non ci siamo e ci siamo tirati fuori. Speriamo di poter essere chiamati in causa nel momento che torneremo realmente a parlare dei temi della cittadinanza. Abbiamo messo adesso nelle condizioni il sindaco e il resto della maggioranza di poter fare l'aggiunta migliore che credono. Ci auguriamo poi di poter tornare nel dibattito politico, almeno amministrativo, parlando soltanto dei temi e non di spartizione di poltrona. Se da un lato ci si interroga sul nuovo esecutivo, dall'altro c'è un bilancio da approvare. Bilancio che deve essere stato chiuso a fine aprile e che ancora attende il confronto in aula con forti polemiche riguardo ai tagli. È stato già votato dall'aggiunta il bilancio, però io personalmente ho idee diverse nel senso di arrivare a fare dei tagli strutturali, perché noi abbiamo un anticipo di cassa che si avvicina ai 20 milioni, quindi io ritengo che bisogna fare dei tagli strutturali per cercare di ridurre il più possibile di questo anticipo di cassa. Produrrò degli emendamenti, farò in modo che in consiglio si porti quest'idea e spero di trovare una maggioranza che vada in questa direzione. I 5 Stelle intanto richiamano tutti all'ordine ricordando responsabilità e doveri di una pubblica amministrazione che deve garantire solidità e servizi alla propria cittadinanza. Non deve essere ostaggio di un sindaco che si sta tenendo stretti i suoi due stipendi anziché di mettersi subito, perché ovviamente non ci sono più le condizioni, andare a casa e dare immediatamente la parola al popolo teramano. In questo bilancio ci sono solo tagli fatti a caso e non c'è alcuna azione di rilancio economico per questa città che sta morendo. Eminente lo sgombero del mercatino etnico delle aree di risulta pescara su una questione che è diventata scottante. Abbiamo ascoltato l'assessore comunale al commercio Giacomo Cuzzi. Ai microfoni di Paolo Renzetti. Sempre più imminente lo sgombero del mercatino etnico delle aree di risulta pescara. I rumors parlavano di un possibile blitz delle forze dell'ordine per la mattinata di oggi, ma quel che sembra certo è un'azione entro le prossime ore. L'assessore al commercio del comune di Pescara Giacomo Cuzzi ribadisce però che si lavora ad un progetto condiviso. Che vogliamo riportare coloro i quali vogliono operare nella legittimità amministrativa attraverso delle opportunità appunto nella sfera di quella che è poi la legalità amministrativa e quindi abbiamo dapprima individuato un'area alternativa per la realizzazione di un mercato etnico nel terzo tunnel della stazione ferroviaria. Per questo il percorso si è un po' allungato diciamo perché occorrono oltre alla variante urbanistica anche i pareri dei ferrovii dello Stato e poi abbiamo dato la possibilità a coloro i quali vogliono operare individuando degli spazi liberi all'interno dei mercati rionali, offrendo anche loro uno sportello diciamo per la semplificazione delle attività legate alla burocrazia. Le opposizioni premono affinché questo problema venga però risolto in breve tempo? Ma le opposizioni hanno avuto tempo e modo nei cinque anni di governo della città per risolvere la problematica invece non si sono occupati del problema e oggi fanno folklore attraverso delle dichiarazioni. Noi invece in due anni e mezzo abbiamo messo mano a tutte le situazioni dei mercati abbiamo messo mano anche a questo problema e lo risolveremo con la tenacia e il coraggio di sempre dando delle opportunità ma sicuramente riportando tutto all'interno dei regolamenti e delle norme che questo comune ha. All'Aquila nei giorni in cui si cercano strade d'uscita per arrivare all'approvazione del bilancio comunale arriva la rassicurazione, i fondi per coprire le spese del post-sisma arriveranno. Ascoltiamo. Dal governo arriveranno i fondi per coprire i buchi di bilancio legati al post-terremoto e lo strumento finanziario sarà approvato nei termini previsti dalla legge. Ne accerta la senatrice del PD Stefania Pezzopane che in questi giorni è in contatto con la sottosegretaria De Micheli che detiene anche la delega per il terremoto abruzzese. Se i fondi arriveranno come promesso pertanto non si arriverà allo scioglimento del Consiglio Comunale anche se è tutta da volutare l'ipotesi che l'aumento della Tari possa essere scongiurata. Da Villa Gioia è partita una richiesta di almeno 18 milioni di euro. Secondo alcune stime si potrebbe arrivare fino a 24 ma la sensazione è che da Palazzo Chigi lo stanziamento possa arrivare ma in quantità inferiore a quanto invocato dal sindaco Massimo Cialente che nelle scorse settimane ha avuto parole di fuoco sia per il governo sia per la sottosegretaria De Micheli. Forse non la scelta migliore in vista della decisione di uno stanziamento che potrebbe essere decisivo per non aumentare le tasse e tagliare servizi erogati dal comune. Stanno valutando queste richieste che si è superata la fase più critica, che c'è un impegno del governo a coprire le mancate entrate derivanti appunto dal fatto che il processo di ricostruzione non è ancora completato e le maggiori uscite derivanti dal fatto che la città ovviamente ha una sua organizzazione sociale molto più complessa che purtroppo costringe il comune a maggiori oneri per esempio sul sociale, per esempio sulla viabilità, per esempio sui trasporti. Ci sto lavorando da molte settimane e tutti gli anni questo problema è stato risolto. Stiamo lavorando col sottosegretario Paola De Micheli a definire le somme ma sicuramente entro il 25 il governo darà un segnale concreto al sindaco Massimo Cialente intorno al quale noi tutti stiamo lavorando perché mai e poi mai un governo che dà 6 miliardi ed oltre di euro per la ricostruzione farà avvenire meno questo consenso per qualche milione di euro. Potenziata dal comune di Pescara la raccolta differenziata degli oli vegetali e sausti si punta anche a una campagna di sensibilizzazione per i cittadini, 20 i contenitori sistemati nelle varie zone. Vediamo. Assessore Marcheggiani, novità per quanto riguarda la raccolta degli oli vegetali e sausti. In città, nei vari quartieri avete posizionato degli appositi contenitori proprio per questa raccolta? Sì, abbiamo triplicato questi contenitori per la raccolta differenziata di questi oli soprattutto oli di frittura e soprattutto che hanno un risvolto di tipo domestico in quanto i ristoratori sono già dotati di una rete obbligatoria di raccolta di questi oli e quindi cerchiamo di intercettare con una campagna di sensibilizzazione tutti i cittadini dall'inizio di luglio, dai primi di luglio, ci sarà questa campagna che si svolgerà in tutte le piazze della città in tutti i rioni mercatali e quindi noi contiamo di migliorare avendo posizionato il triplo dei contenitori passando da 7 a 20 sicuramente questo tipo di raccolta molto importante sembra una piccola cosa ma è un gesto veramente importante che esprime attenzione e cura all'ambiente in quanto questi oli sono veramente dannosi in quanto creano un velo, una pellicola che può creare dei problemi al depuratore, alle fogne e poi sicuramente al mare dove vanno a finire Vi aspettate ovviamente la collaborazione dei cittadini attraverso questa campagna di sensibilizzazione? Sicuramente sì, i cittadini riceveranno, quelli che collaboreranno in dono un ridetersivo che è fatto proprio dagli oli esausti recuperati E tra gli appuntamenti il comune di Pescara e il Chase di Pescara hanno presentato oggi l'evento organizzato per la prevenzione e il recupero del disagio sociale Cross the border è l'intuizione che hanno avuto alcuni ragazzi di Pescara nel trovare un nesso tra Bruce Springsteen e Flannery O'Connor Bruce Springsteen lo conosciamo tutti la rocker della New Jersey Flannery O'Connor è una delle più importanti scrittrici americane ebbene tra loro c'è un legame, uno strano legame fatto di contenuti in ciò che Springsteen scriveva nelle sue canzoni e la O'Connor nei suoi romanzi li abbiamo uniti, abbiamo creato questo recital originalissimo verrà da Livorno la più importante tribute band di Bruce Springsteen in Italia Blood Brothers e ci saranno degli attori che reciteranno dei passi delle canzoni di Springsteen e della O'Connor e poi dei fumetti animati realizzati da fumettisti pescaresi molto bravi in più nel pomeriggio una pesca di beneficenza perché poi il senso di questa manifestazione è soprattutto quello di raccogliere fondi a favore della casa del piccolo principe della Chase il piccolo principe in particolare il servizio a cura e tutela dei minori vittime di abuso, maltrattamento e grave trascuratezza che opera attraverso un centro clinico psicodiagnostico, terapeutico e due comunità educative, la Rosa e la Volpe che ospitano complessivamente circa 20 minori in regime residenziale e altrettanti in regime semiresidenziale l'evento del 19 maggio si inserisce proprio tra i progetti di fundraising del 2016 e speriamo che il ricavato possa andare a integrare quelle che sono le attività ludico-ricreative a favore dei minori Sabato 21 e domenica 22 maggio Campli invece ospiterà gli atleti in gara per i campionati regionali di pattinaggio tra sport e spettacolo le gare saranno valide per le qualificazioni ai campionati italiani 2016 Un weekend dedicato al patinaggio artistico Campli per due giorni ospiterà i campionati regionali con l'arrivo di 100 atleti che si daranno battaglia al Palabor Gognoni a suon di musica, coreografie e costumi di scena Continuiamo a promuovere il nostro territorio, lo facciamo attraverso lo sport non solo il basket che a Campli è conosciutissimo ma anche attraverso il patinaggio Il 21 e il 22 di maggio verranno atleti e accompagnatori da tutta la regione saranno oltre 300 persone quindi noi come comune saremo pronti ad ospitarli non solo al Palabor Gognoni dove si terrà la manifestazione sportiva ma anche nel nostro splendido centro storico perché questa occasione di promozione sportiva è anche un'occasione di promozione turistica e quindi noi come amministrazione comunale stiamo investendo molto su questo e siamo lieti e contenti e onorati di ospitare una manifestazione così importante Le gare saranno valide per le qualificazioni i campionati italiani 2016 una disciplina che in Abruzzo ha visto negli anni e vede ancora oggi importanti atleti come Deborah Sbei, pluricampionessa mondiale, nata a Teramo, classe 1990 un appuntamento dedicato a esperti, appassionati e neofiti È una manifestazione spettacolare perché il patinaggio artistico richiama sempre un grande pubblico e quindi per noi è un onore arrivare a Campli, una cittadina dove il patinaggio ancora non è molto conosciuto lo scorso anno abbiamo per la prima volta organizzato un evento e abbiamo visto che c'è stata una grande risposta di pubblico ci sarà uno spettacolo per il sabato riguardante la specialità solo dance coppie danza, mentre la domenica singoli e coppie artistico delle massime categorie quindi comunque sarà sicuramente un bello spettacolo Apriamo la pagina sportiva con il ciclismo Il corridore abruzzese della Bardiani, Giulio Ciccone, ha vinto in solitario la decima tappa del Giro d'Italia da Campi Bisenzio a Sestola di 219 km Per Ciccone, passato tra i professionisti proprio in questa stagione si tratta della prima vittoria tra i pro il corridore teatino ha preceduto Ivan Rovni della Think Off giunto al traguardo con 42 secondi di ritardo e Atapuma della BMC che ha accusato un distacco di 1 minuto e 20 secondi Ciccone, appena tagliato il traguardo, ha dichiarato oggi è il giorno più bello della mia vita non mi sembra vero, è come se fossi in una bolla finalmente ho ottenuto la mia prima vittoria da professionista e la dimostrazione di come la nostra squadra sia una grande famiglia In classifica generale, la maglia rosa finisce sulle spalle del giovane lussemburghese Bob Jungels mentre Damiano Cunego della Fantini Nippo riconquista la maglia azzurra di miglior scalatore domani l'undicesima tappa da Modena ad Asolo una frazione pianeggiante della prima parte e più impegnativa nel finale E dal ciclismo al calcio, rientrato in gruppo questo pomeriggio il difensore Ugo Campagnaro, il giocatore argentino potrebbe essere titolare venerdì contro il Latina Lavoro differenziato per la Padula, si sono fermati Torreira e Memusciai che sono in dubbio per venerdì Non ci sarà Benalì, che comunque andiamo ad ascoltare nel servizio Sono contento che la squadra mi ha sostenuto da questo momento nero che c'era poi le quattro giornate che ho preso ringrazio la società, il Mista che mi ha dato tanta stima però sono contento che sono rientrato a giocare la partita soprattutto che la squadra ha vinto No, io l'ho detto che la doppietta era mia però come quando gira bene, gira bene che secondo me l'ho preso io però lui dice che ha preso lui quindi è scritto i doppietti di la Padula quindi purtroppo è gol di la Padula spero che rimango qui qui mi sono trovato molto bene quest'anno con i compagni in città con i tifosi, con il Mista la società che mi ha dato tanta stima quindi tanta fiducia mi sono trovato molto bene spero che rimango qui c'è un progetto molto importante per il futuro quindi spero con tutto il cuore che rimango qui a Vescara Sì, ormai questa squadra palla a terra come giochiamo noi è facile fare tre quartisti centrocampisti però tutto l'anno ho fatto tre quartisti adesso sono più abituato a fare la tre quartista e magari sì, mi sento più adesso sento più tre quartista che mezz'anno però non è nessun problema se devo fare la mezz'anno l'anno scorso ho fatto nove gol infatti quest'anno i gol mi mancano però mi sa che quest'anno ho fatto più non so, dico sempre a Valerio che non ha segnato neanche lui quindi noi facciamo sempre le giocate e gli altri segnano quindi lasciamolo così che tutto l'anno è andato bene quindi se rimane così se non faccio un altro gol e saliamo in Serie A sarei più di contento e la Virtus Lanciano continua a preparare la gara rischia tutto di venerdì a Livorno mancherà il capitano Aquilanti tra i labronici fuori casa lo squalificato Biagianti e gli infortunati Bunino Ielevic, Borghese e Gonnelli ascoltiamo nel servizio l'esterno della Virtus Manuel Turchi ai microfoni di Alessio Giancristofaro abbiamo dato per scontato che fosse finita la partita cosa che nel calcio non bisogna mai fare soprattutto c'è l'ammarico per quello perché comunque abbiamo avuto le occasioni per chiuderla però bisogna andare con la testa a Livorno e non abbiamo scelta noi ci crediamo perché comunque sappiamo che giocando da Virtus possiamo farci sicuramente in settimana bisogna lavorare molto sulla testa ormai le gambe quelle che hanno quella che c'ha c'ha quindi credo che sia una partita aperta perché loro devono vincere per forza anche noi quindi sarà una bella gara capisco il loro gioco capisco Spinelli che alza un po' il Verone così inutilmente ma fa parte del gioco far parlare gli altri per distogliere lo sguardo da una squadra che comunque stava per retrocedere però pare che abbia funzionato perché sono andati a vincere Ascoli che l'Ascoli si credeva già salvo però anche l'Ascoli adesso è dentro e noi dobbiamo fare una partita con tutte le forze che abbiamo Andiamo in Lega Pro il calciatore rosso Bluto Maso Ceccarelli a seguito dell'infortunio subito durante la partita di allenamento di sabato scorso ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro Ceccarelli nei prossimi giorni verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal professor Vittorio Calvisi e dalla sua staff altri problemi per l'Aquila sono legati alle condizioni di Emanuele Pesoli che ieri si è fatto male in allenamento da valutare l'entità del problema ad un ginocchio il difensore domani si sottoporrà ad un'ecografia l'auspicio dello staff tecnico e che non si tratti di una distorsione altrimenti Pesoli rischierebbe di saltare le due gare di play out Calcio a 5 l'acqua e sapone a un passo dalla finale Scudetto per accedervi però la squadra di Massimiliano Bellarte dovrà compiere un altro piccolo capolavoro cioè uscire indenne questa sera dal Palas San Quirico di Asti dove si giocherà le 20.45 gara 2 di semifinale nella prima partita giovedì scorso l'acqua e sapone si è imposta per 4 a 2 questa sera basterà dunque un pareggio per passare il turno anche se Asti vincitrice della regular season ha già vinto in rimonta la prima serie di play off contro la Cogianco l'acqua e sapone cercherà di sfoderare una prova ai limiti della perfezione simile a quella che nel primo turno le ha permesso di espugnare il campo del Caos Futsal alle 20.30 l'altra semifinale a Rieti tra i padroni di casa e la Luparense coi veneti che si sono aggiudicati in casa la prima partita ed è tutto per questa seconda edizione prima di chiudere ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 su TV6 la trasmissione sportiva Proteramo in studio Jacopo Forcella e tanti ospiti come sempre invece la TG6 torna puntuale alle ore 23 grazie per l'attenzione buon proseguimento grazie per la visione